Fascia blu Nord delle tende Uno alle tende Fascia blu Fascia blu Fascia blu Fascia blu Fascia blu Preso, morto 600 metri Mi sparano Qualcun altro che spara? Sì, sparano a me Il compagno ha le tende, probabilmente Comunque l'ho steso, mi ha visto Allora, il cadavere è 50 metri lungo la strada principale che porta da nord alle tende Dietro un albero, a bordo strada Provo a vedere l'altro adesso Questo è silenziato più difficile da prendere Ma che cazzo sei?